in questo video vi mostrerò la posizione del primo dungeon segreto in minecraft dungeons ossia nel livello creepy crypt dove si trova? praticamente dopo che avete salvato il primo abitante e adesso vi mostro la posizione di dove è l'abitante in modo da darvi possibilità di capire effettivamente dove andare ma è molto semplice ve lo assicuro quindi raggiungiamo il primo abitante che abbiamo salvato qui attiviamo ovviamente la mappa con la freccia in basso io sono su xbox in questo modo vi do la possibilità di capire una volta che ecco abbiamo salvato il primo abitante quindi abbiamo sbloccato il cancello in questione entriamo qui andiamo avanti e al bivio andiamo a sinistra quindi percorriamo tutto il percorso a sinistra come vi sto mostrando dalla mappa andate sempre a sinistra fino a quando non dovete salire quindi salite qui andate nel grande spiazzale avvicinatevi a questo interruttore premetelo attendete che il muro si sposti e entrate dentro in questo modo qui fino a quando ovviamente non riuscirà viaggia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti